Ciao! Questo è un video acquisti, principalmente sono gli acquisti che ho fatto a Torino lo scorso weekend. Sono stata a trovare la Simon, Simon Loves Makeup con Christelle e Francesca. Christelle è 77 piga e Francesca è Sissi & Frenchy. Ci tenevo particolarmente a ringraziare sia la Simon che l'intruso per averci comunque ospitato a casa loro. Siamo state veramente bene e Nikita è un amore. Ma vi faccio vedere cosa ho acquistato. Siamo state da Melissa Erboristeria. Lì c'era Chiara, chicca, e ci ha fatto da Cicerone all'interno del negozio. È un negozio bellissimo, sia per l'arredamento che c'è all'interno del negozio, proprio per lo stile, ma anche per come sono esposti i prodotti. È veramente bello come negozio. E ha tantissime marche, tantissimi prodotti. Io ho preso diverse cose. Prima di tutto ho ripreso lo shampoo alla salvia e limone, questo qui della saponaria, perché l'avevo terminato, comunque lo dovevo riprendere. E l'ho pagato 8,50 euro. Poi ho preso lo scrub goloso, questo qui, per le labbra di Biofficina Toscana. E questo veniva 7,90 euro. Poi ho ripreso un balsamo nell'altemilla, questo alla lavanda eucalipto. Questi sono 250 ml, questo veniva 11,50 euro. Poi volevo provare qualcosa di John's Ac. E ho preso l'acqua micellare. Questa è per le pelli miste e grasse. Se non leggo male, perché è tutto in francese, suppongo. Ed è questa qui. Questi sono 500 ml, ha 6 mesi di Pau e veniva 11,90 euro. E in ultimo ho preso l'idrolato di salvia della saponaria. Questo qui, questa è la terza confezione che prendo. E questo Valeria, che è la titolare di Melissa, me l'ha regalato. Non me l'ha fatto pagare. Quindi la ringrazio ancora. Poi siamo state da Minai. Da Minai, perché dentro questa busta c'è il mondo, ho preso... Innanzitutto ho guardato il negozio perché non l'avevo mai visto. Un negozio Minai perché qui da me non c'è. E c'era una promozione che se prendevi tre smalti, o sì, tre smalti o tre prodotti, mi sembra, in generale, insomma, che non era detto dovevano essere per forza smalti, ce ne avevi uno gratuito, tra quelli che vengono 1,90 euro. E io come tre smalti ho preso questo qui, che è il numero 59 Pollock. Non so se leggete qualcosa. Cerco di... Comunque è un corallo. Sì, eccolo qui. Poi ho preso questo, che è il numero 103 Rockabilly, che è questo viola. Sì. E l'altro che ho preso è il numero 137 Charlotte Red, che è questo qui, che è un rosso... un rosso, diciamo, abbastanza aranciato. Eccolo qui. E per 1,90 euro lo smalto che ho scelto è il numero 63 Dalì, che è questo. Che lì vedete rosa più chiaro, ma invece è proprio un pastello. Gli altri smalti che ho preso, i tre che ho preso a prezzo intero, mi sembra che vengano tutti o 4,90 o 6,90. Ora non mi ricordo sinceramente di preciso. C'erano diverse cose interessanti, per esempio ci ho fatto vedere degli smalti duo chrome molto belli. Però, sinceramente, anche solo swatchati su un pezzettino di scotch, dopo due passate l'effetto duo chrome non era così evidente. E poi venivano comunque 10 euro, 8 euro... sui 9-10 euro. Quindi, cioè, le ho guardate, ma non ho preso niente perché alla fine magari spendere 10 euro per uno smalto duo chrome, ma se poi l'effetto duo chrome non si vede, insomma. Poi, siamo state da Sephora, e da Sephora ho preso una cosa che cercavo da tempo, ma che qui da me, naturalmente, lo standard to face nella Sephora non c'è, e ho preso una Melted, e è fig. È questa qui, vi faccio lo swatch, ma ormai l'avrete visto in tutte le salse. Questa io l'ho già utilizzata, ed è veramente bello come colore. È questo colore qui. Io l'ho già utilizzata. Ad un pasto non mi resiste, però l'ho messa due giorni per andare al lavoro, e messa la mattina, quando sono arrivata a pranzo, non ho avuto bisogno di ritoccarla fino al pranzo, ma era lì perfetta. Poi, ecco, al pranzo non ha resistito, però, devo dire che è andata abbastanza bene. Questi a prezzo pieno vengono 21€, ma avevo uno scontro, cioè, non avevo io, Cristel aveva uno scontro del 10%, quindi l'ho pagata scontata del 10%. Poi, sempre la Sephora, siccome da me è la collezione estiva di Pupa, ancora non l'ho vista, ne ho approfittato, sto cercando di aprire, ma non è facile. ne ho approfittato perché lì c'era esposta tutta la collezione estiva di Pupa, la Coral, qualcosa, Coral Island, sì, e aveva delle cose comunque molto, molto interessanti. Ora, non riesco a togliere tutta la carta, però, e io ho preso la matita, sempre con il 10% di sconto, perché mi sembra che le matite vengano 11,99, non mi ricordo, comunque, la matita è la Made to Last Ice, ed è questa qui, è la numero 402, ed è questo colore qui, è molto molto morbida, devo dire, questo colore qui. L'altra cosa che ho preso della collezione, che appena l'ho vista, mi sono praticamente innamorata, è l'illuminante, il Coral Island Golden Touch Highlighter, illuminante viso, luce e colore, questo qui, c'è scritto che è il numero 001, ma è l'unico della collezione, ed è bellissimo, già solo la cialda, secondo me, meritava, ed è questo qui. Ora, cerco di prenderlo, miscelato tutto insieme, perché ancora non avevo sbocciato niente, ed è questo qui, e mi sembra molto, molto luminoso, bello, ora lo proveremo, perché io sono tornata a casa, domenica sera, con il treno, sono arrivata alle 11, poi, comunque l'edì mattina, sveglia presto, per andare al lavoro, e oggi che è sabato, posso finalmente, guardare, toccare, utilizzare tutte queste cose. Poi, alla coin, invece, perché da Sephora non c'era, e questa è tutta colpa di Simon, al 100%, perché ne ha sempre parlato benissimo, ho preso il blush di Collistar, della collezione Cartel, questo qui, questo è una meraviglia, il blush è questo qui, ma è setosissimo, una cosa, cioè, quando lo toccate, rimanete senza parole, perché è veramente setoso, e eccolo qui, io ora ho preso i tre colori miscelati, però possono essere prelevati, comunque abbastanza facilmente, anche singolarmente, questo, sono sincera, non mi ricordo il prezzo, ma mi sembra, sui 20 euro, credo, poi, poi, poi qui ho finito, sì, poi, siamo state da MAC, da MAC, ne ho approfittato, per prendere, delle cosine, come se da altre parti, o le avessi prese, ho preso, tre refill di ombretti, perché io avevo finito, la mia palettina vuota di MAC, il mio quad, l'ho completato, ma la Simon, me ne ha regalate un altro, di quad, vuoto, perché lei ce li aveva, ma ha trasferito tutti i suoi refill, nella palettina grande, e io ho preso, Satin Top, che ha questo qui, poi questo, che, non mi ricordo il nome, aspettate eh, che se riesco, a tirarlo fuori, senza fare casino, ok, questo, che è, Expensive Pink, questo qui, questo colore è qui, e questo qui, che è Deep Dance On, sono, io ero partita, che Satin Top, lo volevo comunque, prendere, perché ogni volta, che l'ho visto, ho sempre pensato, che fosse un bellissimo colore, poi, svocciati lì, è veramente bello, questo, l'ho preso sotto consiglio, di Francesca, si sia in French, diciamo, mi ha detto, questo lo devi avere, perché è uno dei colori, che sicuramente, ti sta bene, ed effettivamente, ha ragione, perché è un bellissimo, borgogna, viola scuro, molto, molto bello, i refill, mi sembra, vengono sempre, 13 euro, non mi ricordo, se 13 o 14 euro, a prezzo pieno, sono sincera, poi, per ultimo, ho preso, due, due rossetti, se riesco a farli uscire, dalla confezione, ce la faremo? Chi lo sa, sì, uno è, Captive, ed è questo, bellissimo colore, qui, che, non è, uguale, a Craving, perché, Craving, ha più del malva, Captive, ha più del, del rosso, all'interno, e, l'altro rossetto, che ho preso, che è quello, che ho su, anche oggi, e, è bellissimo, non so, se è, di una collezione, limitata, oppure, era impermanente, non lo so, e, Hollywood, eh, Cherise, questo qui, che è un saten, ah, Captive, non ve l'ho detto, ma, anche Captive, è un saten, eh, è questo qui, e, il colore, è questa meraviglia, qui, ora, nonostante sia, un saten, eccolo, qui, nonostante sia un saten, si aggrappa, molto, molto bene, alle labbra, resta lucido, devo dire, a lungo, perché non è la prima volta, che lo metto oggi, resta lucido, devo dire, a lungo, e ha una buona durata, non mi dura, 8 ore, 9 ore, però, ha una buonissima durata, eh, in negozio, lo abbiamo messo a fianco, a Flat Out Fabulous, perché, un pochino, lo ricordava, ma, Flat Out Fabulous, ha una punta, in più di viola, quindi non sono comunque uguali, questo era tutto, tutti i miei acquisti, che ho fatto a Torino, sono stati due giorni, veramente belli, perché mi sono divertita, tantissimo, e, niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!